Una collaborazione tra l'Associazione Amici della Musica di Arezzo e il Liceo Musicale per promuovere il valore artistico dei giovani studenti verso l'esibizione di spartiti di grandi nomi del panorama concertistico internazionale. L'iniziativa, che vede per protagonisti i ragazzi, si intitola Primavera al Musicale e prenderà il via venerdì 21 marzo alle 21 con un palcoscenico d'eccezione, il suggestivo Teatro Vasariano, dove si trova la nuova sede del Liceo Musicale. Qui si svolgeranno tutti i concerti in programma per l'evento. Si tratta di una delle tante, ma che spero sia ovviamente tra le più significative, quelle che riscuotteranno il più successo, di collaborazione, quella collaborazione che da anni la nostra scuola sta cercando di realizzare con tutto un mondo musicale che magari non ha un livello istituzionale riconosciuto sul piano nazionale, quindi di affermarsi, di cercare nuove energie, e di valorizzare le nostre. Qui vogliamo che i ragazzi diventino dei grandi musicisti. Il Liceo Musicale si tratta di farlo conoscere alla cittadinanza. Abbiamo organizzato questo in collaborazione con loro, è sviluppato e dato le suono alle trombe su questi avvenimenti, cinque concerti che saranno svolti dagli studenti del Liceo Musicale. Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa era presente anche il nuovo direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica, Francesco Attesti. La cosa fondamentale è dare la possibilità ai ragazzi di riuscire a esibirsi in concerto, il più possibile perché è un aspetto importantissimo della loro attività, che sarà quella appunto, dopo essersi diplomati, di andare per il mondo, magari anche per l'Italia, che c'è tanto bisogno per riuscire a elevare la qualità musicale. L'altro aspetto è anche didattico, educativo e soprattutto anche interessante perché copre veramente il programma un arco di tempo di circa 300 anni, perché si parte da Bach e si va fino ai contemporanei.